Strano ma vero quello che si è verificato all'estero, dove pensate un uomo è riuscito a catturare e immobilizzare uno squalo a mani nude, si è verificato in uno spiaggio del territorio del parco naturale di Cape and Lopen, negli stati Unite d'America. Nello stato di Delaware è proibita la pesca di squali, in questo caso il protagonista del video che fa il pescatore è riuscito a catturare lo squalo solo utilizzando le sue mani. L'animale si era avvicinato in maniera piuttosto pericolosa alla riva del mare, sembrava in difficoltà. L'uomo ha sfruttato la sua grande esperienza per andarlo ad immobilizzare e rimuovere l'amo che l'aveva incastrato alla bocca. La legge del Delaware è piuttosto rigida sugli squali, ci sono alcune rassi considerate a rischio di estinzione che non possono essere né pescate né rimosse in maniera temporanea dall'acqua. Nel caso dell'uomo che è filmato però, considerando che anche ha liberato lo squalo in un'area a debbia sicurezza, diciamo che va bene. E non ci saranno indagini giudiziarie legali nei suoi riguardi, nei suoi confronti. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Iscrivetevi, commentate. Un saluto da Leonardo Nato Italiano. Grazie.